E' vero o no? Sì! Va per la direzione della freccia, però non si muove, si gira e basta, rifacciamolo, mettiamocelo così, mettiamocelo così, così come subito, quindi se io prendo questo tasto su K2, K2 fa così. E' vero o no? Sì! Bravi! 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 Vieni a Gialetto! Sì! Questa è la destra! Questa è la sinistra! Quindi quando è così, K2 fa così! Vediamo cosa vuoi si fa a manniglio di questo? Allora tutti, tutti là, tutti là, un passo avanti e fermi con i piedi di osi, allora un passo avanti, un passo indietro, questa è destra, destra, destra eh, no no no, questa è differente, destra, quindi se mi devo girare a destra, come ci si gira? Va bene? Ok? Allora un passo avanti, un passo indietro, girate per destra, bravi, gioco indietro, ci si gira a destra, bravi, si guarda la freccia, che ci dice la freccia? Avanti. Allora che ci dice la freccia? Quindi bisogna fare il passo avanti, che ci dice la freccia? Bisogna girarci verso? Dov'è la freccia? Quindi che devi fare? Ti devi girare così, va bene? Ci siamo? Allora guarda, se ti sei girata, io ti metto questa, che devi fare? Vuoi vedere? Brava, poi io ti metto questa, che devi fare? Ma fai passare, va bene? Ma fai passare, va bene? Fai passare, che devi fare bene? Tu sei passare, hai detto questo, giusto? La freccia cosa dice la freccia? Guarda, ma non si vuole che non dice la freccia? giusto? Bellezza? No. Bezzo. Bezzo sotto? Beh che sogni? benefits. Così, rezzi. Veniamo adesso. Che finisce oggi? しい cents a ancestra. Vado bene? Tornati…veruto? che ti riesci a fare? che ti riesci a fare? che ti riesci a fare? brava brava che ti riesci a fare? e questo? e questo? e questo? vieni su questa testa che ti riesci a fare? tex brava bravissima che ti riesci a fare? niente brava ok che ti riesci a fare? che ti riesci a fare? che ti riesci a fare? bravissima che ti riesci a fare? vai a fare? vai a fare? bravissima 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 vieni qui vieni qui qui che devi fare? vai sulla testa bravissima quindi ti sei girato? ti sei girato? dimmelo tu bravo qui che devi fare? qui che devi fare? qui che devi fare? no scusami qui che devi fare? no che devi fare? indietro vai indietro vai sali di sopra che devi fare? che devi fare? sali che devi fare? a destra va che devi fare? a parte bravissimo che devi fare? che devi fare? a destra spazio qui che devi fare? a destra bravo così eh? pronto? che dice lui? che dice? poi? poi? a destra guarda bene bene ce l'hai il braccialettino ok? il braccialettino ecco guarda la prima cosa fa va bene qui il suo è? destra poi? bravo bravissimo poi? bravo bravissimo poi? guarda 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 bene guarda bene te l'ho messa male indietro indietro stai qui stai qui ma vai vai qui che succede? vai che succede qui? che devi fare? quindi? devi girare a sinistra sinistra bravissimo che succede? che succede? stai qui stai qui e che succede? stai qui e che succede? stai qui che succede qui? si gira? è così Questa manina qua, come è? Sì, pista, così, bravo Qui che succede? Indietro, bravissimo Grazie Grazie Quel che devi fare? Che devi fare? Grazie Che devi fare? Nooo Grazie Travi sinà Quel che devi fare? Mia Quanto mi vuoi? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.